Inquinamento e salute, a Salerno l'incidenza di alcune neoplasie è più alta rispetto al resto della provincia. Il dato è emerso nel terzo tavolo tecnico che si è tenuto al comune sulle fonderie Pisano. Il dato relativo ai tumori non fa riferimento allo stabilimento di fratte, ma analizza i numeri complessivi della città capoluogo. L'obiettivo è affidare all'Università di Salerno l'incrocio dei dati per provare a localizzare i quartieri della città dove il rischio per la salute è più elevato. Ho sempre detto anche in passato che probabilmente se avessimo voluto capire meglio che cosa succede in quella zona sarebbe stato opportuno fare uno studio mirato con la georeferenziazione dei tumori. I dati del registro sono buoni, io so come si raccolgono. Noi recuperiamo tutti i dati, c'è un registro tumori che recupera i dati che vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di tutti i nuovi casi che si manifestano, non solo delle strutture campane ma anche delle strutture extra-regionali perché in extra-regione ci arrivano i DRG per compensazione. Cancro all'intestino, melanoma del rinofaringe e tumore al polmone, le patologie che a Salerno superano la media provinciale. Nel frattempo prosegue il braccio di ferro sulle fonderie. Abbiamo tutti quanti un obiettivo comune, siamo tutti convinti che le fonderie Pisano devono essere in qualche modo delegualizzate e quindi il processo deve andare avanti il più in fretta possibile e ovviamente però non possiamo non tener conto di tutta una serie di condizioni. Il comune di Salerno, lo ribadiamo per l'ennesima volta, non ha la titolarità per poter chiudere le fonderie Pisano se non avallate da una serie di componenti che sono esterne al comune.